a lenzanzare ma quella motoria va su ovunque ma quella non scivola lui lo facciamo e nessuno che lui di qua no perché se mi va di qua mi si imbizzarisce lì anche quella è un'altra cosa che devi imparare scegliere la strada quando vedi che sei in crisi che c'è una laterale schizza fuori guarda dove vai non devi guardare diritto e basta eh ma ero lontano osti ero qua eh ero su lì prima come? vieni giù qua va let's go dai fagli a provare a gianda fagli a provare a gianda fagli a provare esagera no ma da giù sotto non da qua torni giù e poi la fai che da qui ne osserva qua è finita vai giù scendi giù fino in fondo scendi giù scendi giù vai 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 scendi giù la sua è lunga dai da seconda vedrai smesso di qua impennato vedrai senti quelli come cazzo è scioghita la usa si accalì si accalì poi gli ha messo dentro l'olio sasso a posto dell'olio freni nella vaspetta figurati adesso hai il materiale per rispondere a quello di come va il freeride cacchio da dio perché è lunga se era in prima veniva su ancora meglio te dagli la tua e porta via questa e via fate il cambio e basta te fai il cambio ti dà la sua scorta e lui porta via questa e vada viccia ma sai quanto cacchio è comoda io penso io penso così com'è ci avessi si facciamo una sede da qui andare a casa ma per tria già metti il mila gramma al terra ma non puoi abbassarti ci si perde il posto sbaglio dai che se mi è chifo salotto